Buongiorno a tutti, siamo in Skillab e stiamo occupandoci di uno dei corsi più stimolanti e anche più divertenti che mettiamo in essere, che è motivarsi e motivare le altre persone, che possono essere collaboratori, colleghi all'interno delle nostre aziende. Per fare questo lavoriamo innanzitutto su noi stessi, perché non possiamo motivare gli altri se non siamo motivati e quindi lavoriamo sulla fiducia in noi stessi, sulle nostre capacità, sulle nostre competenze e passiamo poi a parlare della motivazione, quindi degli stili diversi con le persone che ci troviamo tutti i giorni, quotidianamente nella nostra realtà operativa a gestire e quindi con casi concreti, pratici, segmentando le risorse e facendo pratica operativa, passeremo nel secondo giorno del venerdì viceversa a parlare di strumenti, strumenti operativi, strumenti operativi che possono essere il colloquio e la gestione delle riunioni in una logica di motivazione. L'aula è un'aula dinamica, è un'aula interattiva, è un'aula che ha voglia di fare. Per partecipare a questo corso dobbiamo crederci, altrimenti è una perdita di tempo. Grazie a tutti!